Allora dice che non si inizia un discorso con allora, ma noi continuiamo. Noi abbiamo puntate precedenti, allora abbiamo compreso che la misericordia di Dio non è una bacchetta magica, ma che occorre il mio pentimento, la mia collaborazione, la mia volontà di lasciarmi convertire dall'amore di Dio. Vedete, Sant'Agostino, un santo che cito spesso, che amo tanto e di cui ho letto tanto, Sant'Agostino che ha vissuto proprio questa esperienza interiore del peccato e della conversione. Leggete le confessioni di Sant'Agostino e vi renderete conto. A un certo punto dice che quel Dio che ci ha creati senza di noi non può salvarci senza di noi. Dio ci ha creato. Dio ci crea ogni giorno. Non ci chiede il permesso di metterci al mondo, perché quando uno deve donare amore non chiede permesso. Perché l'amore tu lo fai, lo doni istintivamente, non ci pensi. È un impetto che ti viene da dentro e Dio ci crea senza chiederci permesso. Ma per salvarci ci deve chiedere il permesso. Per salvarci Dio ha bisogno della mia collaborazione. Molti dicono, ma se Dio è buono, come fa? Puoi a far sì che la gente vada, si danni per sempre? Ma io non so che cosa effettivamente lì succederà. Però io credo che Dio già qui mi darà tutte le possibilità per salvarmi. Per restare sempre con lui. E quindi se io scelgo il male, è una mia libera scelta, condizionata, ma è sempre una scelta che l'uomo fa. E Dio non mi può salvare senza il mio sì. Senza che io gli tendo le mani. E Dio non manca mai di farci sentire il suo amore a partire da questo mondo, anche quando noi siamo nel peccato più profondo. Anche quando siamo nel fango più, 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 come dire, più profondo, sì, nel fango massimo. Dio ci dà sempre la possibilità di convertirci al suo amore. E voglio chiudere con un altro episodio che racconta fra Emiliano Antenucci nel suo libro Gli ultimi saranno i primi. Un giorno è alla stazione di Pescara, lui è abruzzese, e vede un povero con gli occhi lucidi, forse piangeva, e aveva questa barba. A un certo punto il povero gli si avvicina e fra Emiliano gli accarezza la barba. E il povero che fa? Il povero prende la mano di fra Emiliano, gliela bacia e gli dice Padre, mi fa molto piacere la tua carezza. Per me la carezza di un frate è come la carezza di Dio. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti! Ciao a tutti!